L'Ecturio Plus mira a rafforzare nei bambini l'interesse verso la lettura e verso la comprensione delle lingue parlate nel mondo. L'Ecturio ha previsto la stesura condivisa di risorse online, nate da sperimentazione di didattica dell'intercomprensione, una metodologia descritta anche nel quadro di riferimento degli approcci plurali. Un concetto fondante di L'Ecturio Plus è che l'ascolto di racconti letti sviluppa l'interesse del bambino verso la scrittura in L2. Presenteremo la parte di progetto dedicata alla didattica dell'intercomprensione e alla didattica inclusiva nella scuola primaria. In particolare sarà descritta la sperimentazione condotta in quattro classi terze dell'istituto comprensivo Giovanni Falcone di Copertino, in provincia di Legge. Il materiale didattico che abbiamo utilizzato è un racconto tomato e l'anguria in formato kamishibai, con progettazione grafica adattata ai bisogni di bambini lestici, come ad esempio l'utilizzo del carattere ad alta leggibilità e le immagini che ben esplicitano i contenuti del testo. In classe il racconto di Tommaso e l'anguria è stato proposto prima in una lingua, ad esempio spagnolo, poi in un altro idioma, ad esempio in francese. L'insegnante parlava in italiano. La sperimentazione si è basata sui principi di didattica dell'intercomprensione e di didattica inclusiva. Per la didattica dell'intercomprensione capire e non parlare le lingue. Caprire in primo luogo il significato globale, comprendere il senso generale di un messaggio e non parola per parola. Stimolare le strategie e le conoscenze metacognitive, esempio ciò che so sull'attività che devo svolgere. Stimolare le competenze enciclopediche, ciò che so sui contenuti. Per la didattica inclusiva, essere consapevoli del breve tempo di concentrazione di molti bambini diplestici, sollecitare strategie e conoscenze metacognitive, attivare canali multisensoriali, ascoltare ma anche vedere, guardare, osservare, ridondanza, l'input deve essere ripetuto più volte, esplicitare processi didattici, dire le diverse fasi dell'attività in classe, verificare durante la lezione l'impatto delle diverse attività sull'apprendente. Alcuni principi della didattica dell'intercomprensione e della didattica inclusiva sono in stretta relazione. Se educo a inferire significati dal contesto, aiuto anche chi non riesce a concentrarsi a lungo. Il potenziamento delle strategie e competenze metacognitive è suggerito in entrambi gli approcci. Per simulare le conoscenze enciclopediche faccio uso di immagini e di oggetti che posso toccare. È forte la nostra convinzione che le strategie didattiche per l'inclusione servano a tutti e che l'apprendimento avviene in contesti affettivi partecipati. Per mettere al loro agio i bambini ci siamo seduti a terra in cerchio su un cuscino. Ho parlato a loro con un tono di voce pacato e ho cercato di valorizzare ogni bambino, ascoltando le sue esperienze in merito ai due siti posti. Per esplicitare i processi didattici abbiamo stampato un orologio in cui sono raffigurate le varie fasi dell'unità di apprendimento. L'insegnante all'inizio della lezione ha condiviso con gli studenti lo schema facendogli leggere le fasi di realizzazione. Successivamente con i bambini ha seguito lo sviluppo della lezione postando la freccia nei vari quadranti. L'insegnante ha detto loro che avrebbero ascoltato un racconto in due lingue differenti. Ha chiesto Avete mai sentito parlare lingue che non conoscete? Cosa fate quando una persona parla una lingua che non sapete? Cosa fate quando ascoltate un racconto in una lingua che studiate da poco? Dopo aver visionato il Kamishibai abbiamo messo in evidenza le conoscenze enciclopediche guardando assieme le immagini. I bambini hanno risposto ai quesiti. Di cosa parla secondo voi il racconto? Quali parole potrete incontrare durante la vita? I bambini hanno ascoltato il racconto in una lingua, ad esempio in spagnolo, guardando le immagini che scorrevano. Le parole erano registrate. Abbiamo inserito vocaboli trasparenti, ovvero somiglianti dal punto di vista della forma e del significato, ad esempio nariz in spagnolo e narice in italiano, vocaboli trasparenti in parte, ad esempio in spagnolo chiedo per ghiaccio e parole opache e sandia per anguria. Successivamente per verificare la comprensione del lessico i bambini hanno risposto ad un questionario. Come si può vedere l'uso della scrittura? La scrittura è ridotta al minimo. Le parole erano registrate. Abbiamo inserito vocaboli trasparenti, ovvero somiglianti dal punto di vista della forma e del significato, esempio ojos, spagnolo e occhi in italiano, vocaboli trasparenti in parte, ad esempio chielo per ghiaccio e parole opache sandia per anguria. Per la seconda lingua straniera, ad esempio francese, abbiamo svolto le stesse attività, ascolto, più questionario, comprensione del lessico. Infine un'attività di gruppo ha permesso di ricostruire la storia. Si tratta di dieci schede inserite in una busta con il logo di progetto e l'immagine della testa di Tommaso. Tra le dieci schede ci sono anche quattro distrattori. I bambini dovevano inserire le immagini non pertinenti con la storia in una seconda busta in cui era raffigurato un cestino. Questa fase è servita da un lato a verificare in che misure i bambini avevano compreso la storia, dall'altro a confermare ai bambini che apprendere e comprendere una lingua straniera possibile. L'Etturio Plus è quindi un progetto per il plurilinguismo, per riconoscere e valorizzare le competenze e i bisogni di apprendimento di tutti. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!